Sono molto soddisfatto di questa trasferta in Malesia perché Giulia ha giocato un bellissimo torneo è stata la prima volta che ha superato la qualità verale principale di un UTA giocando davvero un bel torneo L'ultima partita mi è piaciuta solo a tratti perché il primo set non è riuscito a fare nulla per ristabilizzare il gioco della Bersaglia e nel secondo set ho provato a cambiare tanti un'eserciza più aggressiva di Interval un punto in più lei è venuto fuori qualche errore abbiamo avuto molte chance per andare al terzo set peccato che non l'abbiamo sfruttata 4-3 secondo due doppi falli un po' di tensione probabilmente ha pagato un po' il caldo e la fatica di questi giochi e la testa è arrivata complimenti a lei e noi siamo molto soddisfatti ci prepariamo per le qualificazioni di Parigi e sono molto, lo speriamo e vi vedremo un saluto agli amici di Utennis.rem grazie grazie grazie